una rivoluzione in atto vi presentiamo la prototipazione rapida e la stampa 3d immaginate di poter tenere in mano un modello fisico della vostra idea poche ore dopo averla concepita questo è il potere della prototipazione rapida un approccio rivoluzionario alla progettazione e allo sviluppo ci permette di trasformare progetti digitali in prototipi tangibili con incredibile velocità e precisione grazie alla magia della stampa 3d questa tecnologia nota anche come produzione additiva costruisce oggetti strato dopo strato da modelli digitali utilizzando materiali come plastiche metalli e persino ceramiche la convergenza tra prototipazione rapida e stampa 3d ha scatenato un'ondata di innovazione senza precedenti in tutti i settori consentendo a progettisti ingegneri e imprenditori di dare vita alle proprie visioni con notevole efficienza dall'idea alla creazione queste tecnologie stanno rimodellando il modo in cui progettiamo produciamo e interagiamo con il mondo che ci circonda questo approfondimento ci condurrà nell'affascinante mondo della prototipazione rapida e della stampa 3d esplorando nell'evoluzione i principi e l'impatto trasformativo sulla produzione moderna ripercorreremo la storia di queste tecnologie ne sveleremo i concetti chiave e ne constateremo le applicazioni nel mondo reale in campi diversi come la medicina e l'automotive unitevi a me in questa coinvolgente esplorazione dell'innovazione dove l'immaginazione incontra la realtà tangibile e il futuro del design si dispiega davanti ai nostri occhi dalla fantascienza alla realtà un viaggio nella storia della stampa 3d i semi della stampa 3d una tecnologia che un tempo sembrava confinata alla fantascienza furono piantati nei primi anni 80 quest'epoca vide la nascita della stereolitografia la prima tecnologia di stampa 3d ideata da chuck hole la sla utilizzava un laser uv per solidificare strati di resine fotopolimeriche liquide dando forma a progetti digitali gli anni 90 segnarono una svolta quando la stampa 3d allora nota come prototipazione rapida si affermò negli ambienti industriali emersero nuove tecnologie come la modellazione a deposizione fusa fdm che estrude filamenti termoplastici attraverso un ugello riscaldato per costruire oggetti quest'epoca vide la democratizzazione della stampa 3d con macchine sempre più convenienti e accessibili il ventidiuamo secolo ha inaugurato un'era di crescita esponenziale innovazione nella stampa 3d abbiamo assistito all'avvento della sinterizzazione laser selettiva sls che utilizza i laser per fondere materiali in polvere e all'ascesa della stampa multimateriale che amplia le possibilità di progettazione oggi la stampa 3d ha superato le sue origini industriali per toccare vari aspetti della nostra vita dalla creazione di impianti medici personalizzati alla produzione di intricate opere d'arte mentre ci addentriamo ulteriormente nel 21 secolo la stampa 3d è pronta a rivoluzionare la produzione la sanità e innumerevoli altri settori plasmando un futuro limitato solo dalla nostra immaginazione decifrare il linguaggio dell'innovazione concetti e terminologia chiave per cogliere a pieno il potenziale trasformativo della prototipazione rapida e della stampa 3d dobbiamo prima familiarizzare con i concetti e la terminologia chiave che sono alla base di queste tecnologie la prototipazione rapida come suggerisce il nome punta ad accelerare il processo di progettazione creando prototipi fisici in modo rapido ed efficiente la stampa 3d la forza trainante della prototipazione rapida comprende una gamma di processi di produzione additiva che costruiscono oggetti tridimensionali a partire da modelli digitali questi processi variano nei loro principi nei materiali utilizzati e nelle caratteristiche del prodotto finale alcuni termini comunemente utilizzati nel mondo della stampa 3d includono modellazione a deposizione fusa fdm questa tecnologia ampiamente utilizzata estrude filamenti termoplastici attraverso un ugello riscaldato costruendo oggetti strato dopo strato stereolitografia sla una delle prime tecnologie di stampa 3d la sla utilizza un laser uv per solidificare resine fotopolimeriche liquide sinterizzazione laser selettiva sls la sls utilizza un laser ad alta potenza per fondere materiali in polvere come nylon o metallo creando parti resistenti e intricate comprendere questi concetti e termini fondamentali apre le porte a una più profonda comprensione delle capacità e delle sfumature della prototipazione rapida e della stampa 3d prototipazione versus produzione comprendere le sfumature della manifattura additiva sebbene i termini prototipazione rapida e manifattura additiva siano spesso usati in modo intercambiabile è importante riconoscere le distinzioni sottili ma significative tra loro la prototipazione rapida come suggerisce il nome si concentra principalmente sulla rapida creazione di prototipi per la convalida e l'iterazione del progetto la manifattura additiva d'altra parte comprende una gamma più ampia di applicazioni tra cui sia la prototipazione che la produzione finale mentre la stampa 3d svolge un ruolo fondamentale in entrambi gli ambiti la scelta della specifica tecnologia di stampa 3d dei materiali e delle tecniche di post elaborazione può variare a seconda dell'applicazione prevista ad esempio un prototipo creato per testare l'ergonomia di un dispositivo palmare potrebbe dare priorità alla velocità e all'economicità utilizzando potenzialmente la fdm con un materiale meno costoso al contrario un prodotto finale come un impianto medico richiederebbe l'uso di materiali biocompatibili e una tecnologia di stampa 3d come la sls che può raggiungere risoluzioni e proprietà meccaniche più elevate comprendere la relazione sfumata tra prototipazione rapida e manifattura additiva consente a progettisti e ingegneri di sfruttare queste tecnologie in modo efficace scegliendo l'approccio ottimale in base alle specifiche esigenze dei loro progetti